Ciao, oggi è venerdì 22 gennaio 2021. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le cose utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo di Blackout Challenge, del prossimo esame di maturità e di qualche buona notizia sui contagi. Probabilmente lo avete sentito al telegiornale o lo avete letto sui siti. A Palermo una bambina di 10 anni è morta dopo essersi strangolata con una cintura. Ne parliamo perché secondo quello che scrivono i giornali questa mattina, dietro questo gesto ci sarebbe una sfida su TikTok, la cosiddetta Blackout Challenge. Praticamente i ragazzi si riprenderebbero con gli smartphone mentre si privano dell'ossigeno fino a svenire per qualche minuto e poi metterebbero i loro video sui social, per divertimento o per competizione. Sulla morte della bambina di Palermo ora naturalmente verrà aperta un'indagine e saranno i giudici e le forze dell'ordine a stabilire cosa l'abbia portata a quest'azione, se sia stato un incidente oppure un atto volontario al quale magari è stata spinta da qualcuno. Ed è molto probabile però che purtroppo, come spesso capita per i meccanismi dell'informazione, quando le indagini arriveranno a spiegare quello che è successo, di questa vicenda ci saremo dimenticati e quindi non se ne parlerà più. Qualcosa però possiamo dirlo già oggi, perché non è la prima volta che i siti e le tv parlano di tragedie di questo tipo, frutto di sfide estreme sui social network. E a quel punto si mette in moto una dinamica che è quasi un riflesso automatico. si dà la colpa ai social considerando allo stesso tempo i ragazzi come persone prive di qualunque giudizio in balia di qualunque messaggio trovino in rete. E allora attenzione, perché tanto per cominciare ogni volta che si associa la morte di un adolescente a queste situazioni, oggi stiamo parlando della Blackout Challenge, ma in passato si parlava molto della Blue Whale o del famigerato Jonathan Galindo, fenomeni sempre basati sul fatto di indurre i ragazzi a fare cose sempre più rischiose. Ecco, poi non sempre ci sono prove concrete che il ragazzo effettivamente stesse partecipando a una di queste sfide. Anzi, a volte poi esce fuori che il fenomeno stesso si è inventato di sana pianta. Lo so che sembra assurdo, ma è una cosa che nel sistema dei media capita più spesso di quanto si pensi. Una cosa che non esiste diventa vera perché i siti e le tv ne parlano. Ma anche nei casi in cui effettivamente la scintilla dalla quale ha origine una tragedia nasce magari dall'emulazione di qualcosa che si è visto in rete, gli psicologi sono molto chiari nel dire che colpevolizzare i social è perfettamente inutile. La voglia di sfidare il pericolo fa parte dell'adolescenza, della voglia di crescere, di mostrarsi grandi e autonomi. La società degli adulti dovrebbe fare in modo che in questo percorso i ragazzi non si trovino mai soli. Ogni adulto, guardandosi indietro, sa quanto siano stati importanti per lui i genitori, gli insegnanti, ma anche gli allenatori o gli istruttori. In una parola, i maestri. Ecco ora, davvero senza voler essere troppo retorici, ma il messaggio per i ragazzi sarebbe questo. Trovare dei maestri e farsi guidare è la preparazione migliore a ogni sfida. È l'unico vero modo di crescere. E a proposito di insegnanti e di ingresso nell'età adulta, cosa c'è di più simbolico dell'esame di maturità? Il primo febbraio il Ministero dell'Istruzione comunicherà come si terrà l'esame di Stato quest'anno e Repubblica ha anticipato già le principali novità. Come ricordate, nel 2020, con le scuole chiuse da marzo a fine anno scolastico per il Covid, la maturità si era tenuta in una forma molto semplificata, con una prova orale soltanto e una commissione di prof interni alla classe presieduta da un insegnante esterno. Oh, questa formula sarà replicata anche quest'anno, ma con alcune novità. Intanto lo studente dovrà preparare un testo da presentare all'esame orale sulle cosiddette materie di indirizzo, ad esempio greco e latino per il classico, matematica e fisica per lo scientifico e così via. Ritorna l'alternanza scuola-lavoro, che ora si chiama PCTO e che molti studenti in realtà stanno già facendo a distanza, ma non ci saranno le prove invalsi e soprattutto tornerà la possibilità di essere bocciati e di non essere ammessi all'esame in caso di grave insufficienza. Quindi, mi raccomando, studenti delle superiori in ascolto, studiate. Un rapido aggiornamento in chiusura sul virus e, come sempre, cerco anche di darvi qualche buona notizia. Come vi avevo raccontato qualche giorno fa, le vaccinazioni stanno procedendo a rilento a causa della decisione della casa farmaceutica Pfizer che questa settimana ha consegnato meno dosi di quelle previste, ma che comunque promette di rimettersi in pari e anzi di aumentare le forniture da febbraio. Però il Lazio e altre regioni hanno deciso che finché non arriveranno le nuove dosi useranno le fiale che hanno per fare i richiami, cioè le seconde iniezioni che servono a rendere il vaccino davvero efficace, e quindi per ora non vaccineranno nuove persone. Ma intanto i dati settimanali dimostrano che il sacrificio di aver passato il Natale, come sapete, lontano da parenti e amici, non è stato per niente inutile. I nuovi contagi sono diminuiti del 20% in una settimana e, cosa ancora più importante, anche le vittime che, come si sa, seguono sempre un andamento ritardato rispetto ai contagi perché il virus ci mette alcune settimane a fare danni dopo che ci si ammala, ecco, anche i morti sono calati di oltre il 4% in una settimana. E questo, secondo gli esperti che analizzano i dati, è tutto merito della disciplina con cui gli italiani hanno rispettato le zone rosse durante le feste. Quindi, per una volta, bravi a tutti noi. E anche per questa settimana è tutto. Newsbox torna lunedì. Se avete domande mi trovate su Instagram o su TikTok, basta cercare Newsbox o Alessio Balbi, il mio nome. E Newsbox è anche su Alexa. Se volete potete attivare la skill e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e buon fine settimana. Ciao. 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 Ciao.